Oggi stiamo girando questa puntata, ma quando la gente a casa lo vedrà sarà nel futuro. Sì, tra qualche giorno. Quindi... Saremo nel futuro. Sì, quindi saremo nel futuro mentre parliamo di come usare il futuro in italiano. Il futuro in italiano viene usato, può essere usato in diversi modi, ma attenzione perché alla fine del video parleremo di uno degli usi nei quali per parlare del futuro in realtà usiamo il presente. E vedremo un'altra situazione in cui parliamo del presente ma usiamo il futuro. Sempre complicato. Quest'italiano sempre complicato. Iniziamo con l'uso più semplice, cioè quando usiamo il futuro per parlare del futuro. Quando c'è una probabilità, quando parliamo di qualcosa che può succedere, può accadere nel futuro, usiamo il futuro, il futuro semplice in italiano. Quindi, per esempio, nel 2021 mangerò tantissime pizze. Brody crescerà tantissimo, diventerà enorme e peserà 30 kg. Registreremo tante puntate, forse amplieremo il team. Ci saranno più persone e quindi più puntate da più città in Italia. Quando sarà possibile, andrò a trovare la mia famiglia, che è un bel po' che non li vedo. Ciao mamma. Ciao Anita. Sicuramente non riusciremo a prendere in braccio Brody, per il suo peso. Ragazza, il microfono non si mangia. Magari incontreremo qualcuno di voi in giro per l'Italia. Forse, se sarà possibile, faremo un giro dell'Italia. Sì, sicuramente direi, se sarà possibile. Quindi usiamo il futuro quando parliamo di qualcosa che succederà o qualcosa che pensiamo che succederà. Sì, perché effettivamente quando parliamo del futuro non si ha mai certezza. Quindi quando parliamo di cosa secondo noi succederà in futuro, utilizziamo il futuro in italiano. Spesso il futuro si usa con parole che evidenziano che è una nostra opinione o che è comunque una probabilità. Come magari, forse, probabilmente. Ma anche parole come sicuramente. Diciamo sicuramente quando siamo proprio molto sicuri. Comunque stiamo parlando del futuro. Quindi non possiamo mai essere sicuri al 100%. Stiamo comunque parlando di una cosa che pensiamo che succederà. Adesso vedremo degli esempi presi da un video che abbiamo girato qualche tempo fa nel quale abbiamo chiesto alle persone cosa succederà con la Brexit. Pensate che succederà veramente? Mamma mia che domanda difficile. Eh, quello che succederà non ne ho idea. Probabilmente non questa settimana. Probabilmente capiterà non so quando perché comunque c'è stato un referendum e il popolo ha scelto e quindi dovranno trovare una soluzione per uscire. Sarà qualcosa che ci condizionerà parecchio. Sarà un duro colpo da entrambe le parti. Vi consigliamo comunque di vedere tutto il video a questo link perché ci sono tantissimi esempi ed è molto utile come allenamento. A proposito del nuovo anno, se volete imparare più italiano con noi quest'anno potete unirvi alla nostra scuola di italiano online, nella quale ci sono corsi strutturati con lezioni quotidiane che vi arriveranno via mail e che potrete fare ovunque. E c'è anche una componente live nella quale potete unirvi a lezioni di conversazione con professori di italiano. Per saperne di più, cliccate il link in descrizione. Come si forma il futuro? Praticamente ci sono due gruppi principali. Nel primo gruppo i verbi che finiscono in are, come mangiare, e ere, come prendere. Ora vediamo alla lavagna come si coniugano. Togliamo quindi la E e aggiungiamo, prendere. Prenderò, prenderai, prenderà, prenderemo, prenderete, prenderanno. Perché i verbi che finiscono in are sono nello stesso gruppo? Adesso vediamo. I verbi in are hanno la stessa desinenza dei verbi in ere e per questo non solo eliminiamo questa E ma eliminiamo anche questa A che diventerà una E come verbe in ere. Quindi mangerò, mangerai, mangerà, mangeremo, mangerete, mangeranno. Poi nell'altro gruppo ci sono i verbi che finiscono in ire, come dormire. Vediamo come si coniuga alla lavagna. Per i verbi in ere è ancora più semplice. La I rimane la stessa. Togliamo la E e aggiungiamo dormirò, dormirai, dormirà. Dormiremo, dormirete, dormiranno. Ci sono ovviamente dei verbi irregolari ma questa volta la parte irregolare del verbo è la radice. Quindi è un po' più semplice perché le desinenze sono come quelle che abbiamo già visto alla lavagna. Per esempio essere la radice diventa sar. Quindi sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno. Poi c'è fare. Farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. Un altro molto comune è andare. Andrò, andrai, andrà. Andremo, andrete, andranno. E venire. Verrò, verrai, verrà. Verremo, verrete, verranno. Sacco di R. R da per tutto. Ce ne sono altri ma questi che abbiamo appena visto sono quelli più comuni. Ora parliamo di una situazione in cui utilizziamo il futuro per parlare del presente. Sì, infatti, quando noi in italiano supponiamo qualcosa, usiamo il futuro. Per esempio... Dove sarà Brody? Non lo so. Sicuramente non sarà sulla cuccia. Sarà in camera? Sicuramente sarà in camera a mangiare le mie ciabatte. Se qualcuno suona alla porta? Ma chi sarà a quest'ora? Sarà... Il postino? No. Sarà un nostro amico? Può essere. Invece adesso parliamo di una situazione particolare nella quale usiamo il presente ma per parlare del futuro. Questa cosa succede spessissimo in italiano. Spesso quando parliamo di programmi oppure cose concrete. Per esempio... Cosa facciamo stasera? Mangiamo una pizza? Facciamo la stessa cosa che facciamo tutte le sere. Tu cucini, io mangio, faccio i piatti, guardo la tv e... E io gioco a computer. E io gioco a computer. Questa modalità di esprimere il futuro può essere usata sia per un futuro prossimo, quindi domani, sia per un futuro un po' più lontano. Vabbè, è un po' difficile in questo momento perché non abbiamo programmi veri, però facciamo finta. Domani vengono i nostri amici a cena. Tra una settimana faccio un aperitivo con mia sorella. Domenica chiamo mia mamma. Come tutte le domeniche. Non è scorretto utilizzare il futuro in queste situazioni. Infatti, puoi dire domani verranno i nostri amici. Oppure l'anno prossimo andrò in California. È corretto, solo che in italiano spesso utilizziamo il presente in queste situazioni. Quindi, riassumendo, tendiamo a usare il futuro quando parliamo di qualcosa che può succedere. Per esempio, il 2021 sarà più facile del 2020. Speriamo. Poi, tendiamo a utilizzare il presente quando parliamo di programmi concreti. Come per esempio, settimana prossima vedo mia sorella. Ciao, Ludovica. Questa volta abbiamo due domande per voi. La prima, cosa succederà nel 2021? E la seconda, per parlare di programmi concreti, cosa fate stasera o domani? Quindi la prima, futuro, la seconda, presente, ma sempre per parlare del futuro. Rispondete alle domande nei commenti. Ciao. Ciao. Ciao!